Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sagittario per questa lettura che ci mostrerà, eccole qui, le nostre due carte già cadute, ci mostrerà cosa sta accadendo per voi in amore in questo momento. Con una torre e un nove di denari, questo è un momento delicato per qualcuno di voi o per la persona che state frequentando, sicuramente un momento di profondi cambiamenti e trasformazione. Perché la torre parla di un qualcosa che si spacca in mille pezzi per poter dare origine a un qualcosa di diverso. Dunque ecco che molte coppie verranno messe in crisi fin nelle fondamenta, proprio perché quelle coppie devono rinascere in un modo diverso, devono ricreare la loro impalcatura in modo diverso. E tutto quello che non ha funzionato fino adesso viene eliminato per dare spazio invece a qualcosa che funzionerà molto meglio. Quelle coppie che non hanno la forza per resistere a un urto del genere è probabile che finiranno o prenderanno una pausa o la stanno già prendendo. Ecco, considerate che queste sono energie che parlano del nostro qui ed ora, la lettura è valida per il momento in cui la vedete, e cioè adesso sta accadendo proprio questo o sta per accadere. Ed ecco che nonostante tutto questo ambaradan, io vedo uno di voi molto ma molto sereno. Ed ecco che mentre uno di voi deve fare i conti con le emozioni più estreme, con le emozioni più forti e difficili da gestire, l'altro invece sembra molto sereno. Per quelli di voi che invece sono single, considerate che un momento di trasformazione come questo rappresenta un passaggio importante, perché determinerà quello che voi attirerete da adesso in poi. Su quali basi voi attirate o non attirate determinate persone o personalità? Ecco che viene determinato dalla vostra energia. Ma se la vostra energia subisce una batosta all'improvviso e quindi è costretta a cambiare, voi siete costretti a cambiare il vostro modo di vedere, il vostro modo di fare, di gestire, di approcciarvi agli altri, ecco che ciò che attirerete da adesso in poi sarà sicuramente diverso, tra parentesi migliore, perché di solito l'anima evolve e impara, e man mano che impara attira situazioni comunque o migliori o sfide più ardue, adatte al proprio nuovo livello evolutivo. Quindi ecco da che da questo momento in poi tante cose in effetti cambieranno nella vostra vita relazionale. Ma andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è, cos'altro queste carte hanno da dire. Dunque considerate una cosa, che se tutto questo sta accadendo è perché uno di voi ha avuto atteggiamenti poco chiari. E per qualcun altro di voi ci sono nell'aria situazioni problematiche, che potrebbero, se non sono ancora scoppiate, potrebbero scoppiare da un momento all'altro. Quindi ecco che la possibilità appunto che ci siano dei drammi, dei problemi, delle liti, delle discussioni, rimette un po' tutto in discussione. E questo rimettere in gioco le carte e rimescolarle porterà sicuramente a un andare avanti in modo completamente diverso. Cos'altro abbiamo qui? Il compromesso è qualcuno di troppo. E allora ragazzi, qui si rischia di perdere interesse, cioè o noi o l'altro persona rischiamo di perdere interesse. Perché se non si risolvono appunto determinate cose, ed è talmente tanto chiaro che non può andare così, si lascerà perdere. Uno dei due lascerà perdere. Questo vale sia per chi è in coppia sia per chi è single. Qui ci sono davvero due strade. La prima strada è ricominciavo da capo, aggiustiamo tutto quello che c'è da aggiustare. La seconda strada è se la cosa non si aggiusta, non mi interessa più, perdo interesse. Potete essere voi, può essere l'altra persona. E questo perdere interesse garantisce anche un sentirsi comunque in pace con se stessi, comunque essere pronti ad andare avanti, senza troppi drammi e senza troppe polemiche. Cosa che invece ci sarebbero, cose che ci sarebbero, se non si aggiustassero queste determinate cose. Per qualcuno di voi, ovviamente per fortuna non per tutti, c'è una terza persona che deve togliersi dalle balle. Ma deve proprio togliersi dalle balle. Cioè o è un ex, o è una persona di troppo, o è un'amicizia di troppo, o è un parente di troppo. Qui c'è qualcuno che deve comunque lasciare spazio al nuovo. Ed è proprio questo che per molti di voi sta causando i conflitti emotivi che si vedono in queste carte. È importante saper scendere a compromessi. E uno di questi compromessi nella vita, di solito, è lasciare andare il passato per essere pronti al futuro. Quindi ecco, gran parte di voi magari risuonerà con questo ex o con questa persona che deve levarsi dalle scatole. Qualcun altro invece, in ogni caso, sa che ci sono delle situazioni, c'è una certa situazione sulla quale bisogna scendere a compromessi. Qualunque sia il motivo. E dovete farlo entrambi. Non può farlo uno solo di voi. Il compromesso funziona quando è condiviso. Quando entrambi sono disposti a fare la loro parte, per avvicinarsi, per creare armonia e sintonia. Se solo uno è disposto a farlo e l'altro no, levateci mano, mi viene da dire. Perché non porta a nulla di sano, a nulla di buono. Ma continuiamo e andiamo avanti con l'autostima. Come andrà questa cosa? Questa cosa in effetti non è semplice. Non è un momento semplice. Ed è un momento nel quale si sa che stiamo rischiando tanto. Stiamo rischiando di perdere quello che abbiamo. Anche se abbiamo la consapevolezza che se dovessimo perdere tutto quello che abbiamo, perché non si riesce magari ad aggiustare o a trovare un punto di incontro, per noi non è la fine del mondo. La vita va avanti e le occasioni ci sono e nel mare ci sono tanti pesci. Quindi in realtà il risultato finale, come dicono queste carte, dipenderà solo ed esclusivamente da noi. È un gioco di squadra. Quindi dipenderà appunto dalla nostra capacità di fare questo gioco di squadra o dalla nostra volontà di farlo. Perché poi non è nemmeno detto che ne valga la pena per qualcuno di voi che mi sta ascoltando. Ed ecco che appunto quelle persone potrebbero dire no, non vale la pena per me e sto perdendo interesse e ci sono nell'aria troppi problemi, troppi atteggiamenti poco chiari che non valgono. Cioè quando la cosa è così non vale la pena perderci tempo o sprecare energia. sta a voi deciderlo. E ad ogni modo se non avete nemmeno voglia di metterci questo tipo di energia e di impegno, allora vi posso dire lasciate perdere subito. Perché in effetti non è una situazione semplice, non è una situazione nella quale siete leggeramente accompagnati dall'universo insieme a questa persona verso la gioia e la felicità. Qualcuno di voi la felicità la trova più facilmente da solo che con questa persona. Ed ecco che infatti la felicità c'è, comunque andrà, la felicità c'è, c'è la carta della gioia. E questo ci dice che in effetti se noi riusciamo a dare a noi stessi il giusto valore e da questo dipendono le nostre scelte, le nostre decisioni e la nostra opinione su ciò che sta accadendo, la gioia c'è ed è a portata di mare. Il tempo passa intanto, il tempo passa. E a qualcuno di noi sembra di stare un po' in alto mare, sembra di non avere punti di riferimento. La riva è lontana, non si vede, magari non c'è vento e non riusciamo a navigare nella giusta direzione. Ma a questo punto ciò che è più importante è utilizzare questo momento per ricaricarci, per concentrarci appunto su noi stessi e ricaricarci delle energie che abbiamo perso e disperso fino ad ora è seguire l'istinto, proprio perché non c'è una direzione, non ci sono dei cartelli stradali. Sicuramente c'è l'universo che ci dà segnali e questi sono in fondo i nostri cartelli stradali. Ma se noi stiamo cercando un qualcosa di più semplice da seguire, non è così. E allora ecco che l'unica guida che possiamo trovare è quella del nostro istinto e del nostro intuito. Ma lungo il tragitto, dato che nel frattempo siamo un po' per i fatti nostri, diciamocelo, ce ne dobbiamo stare un po' per i fatti nostri, approfittiamone per ricaricarci, cosa che ci sarà molto utile, molto ma molto utile, in futuro, quando o questa situazione si aggiusterà e verrà ricostruita in modo diverso, o questa situazione sarà lontana, sarà nel nostro passato e noi saremo pronti a un qualcosa di completamente nuovo e avremo l'energia giusta sia per attrarre il meglio per noi, sia per vivere la cosa nel modo migliore. Ma adesso andiamo oltre e andiamo a vedere con le nostre conchiglie che cos'altro le carte hanno da dirci, quali altre informazioni ci mettono a disposizione e cosa ci suggeriscono in questo momento. Dunque ecco qui le nostre conchigliette, faremo come sempre il nostro lancio per vedere cosa hanno da dirci, eccole qui, ok abbiamo tre conchigliette aperte ed una conchiglietta chiusa, quindi in questo caso abbiamo a che fare con una problematica che in fondo è davvero risolvibile, con una problematica che non è poi così grave, non condiziona la nostra vita in un modo così negativo, più che altro siamo noi forse che stiamo dando troppa importanza a questa cosa troppo peso e dovremmo invece prenderla un po' più razionalmente e con leggerezza e con distacco emotivo. I nostri pensieri sono rimasti nel passato, questa è la motivazione più grande per cui ci troviamo in questa situazione, siamo troppo legati a un passato che ormai non c'è più e anche il nostro cuore insieme alla mente e insieme ai ricordi sembra legato a questo passato, noi siamo andati avanti e stiamo andando avanti, ma sembra che il cuore non se ne sia accorto, la mente non se ne accorta, quindi potremo per esempio essere legati ai ricordi di un tipo di relazione, ai ricordi di una certa persona, potremo essere legati a un qualcosa che ci tiene ancorati nel passato e che ci impedisce di muoverci e volare liberamente verso il futuro, ma il futuro è già qui, il futuro è già nel nostro presente, quindi se mente e cuore non raggiungono noi adesso e quindi io adesso farò una piccola psicomagia perché dobbiamo in qualche modo mettere insieme queste parti di noi, dobbiamo vivere nel momento presente, dobbiamo focalizzarci sul qui ed ora, non possiamo vivere in ciò che non esiste più, facciamo questa psicomagia, spostiamo le nostre conchigliette nel momento presente e facciamo in modo appunto che i nostri desideri, che la nostra volontà e che il nostro bisogno di vivere bene sia accompagnato e quindi assecondato anche dalla mente, anche dai pensieri e sì ci vuole, a volte non è una scelta, a volte è un qualcosa che accade, che accade all'improvviso, ci svegliamo una mattina e non ci importa più del passato perché appunto siamo pronti per andare oltre e ci sentiamo ricaricati, questa cosa non è ancora accaduta, la ricarica sta avvenendo proprio adesso, quindi concentriamoci sul ricaricarci di energia ed evitiamo di disperdere energia nel nostro passato in qualcosa che non può più esistere e che non c'è o addirittura per qualcuno di noi in qualcosa che non è mai esistito così come noi lo avevamo visto ma semplicemente c'eravamo fatti un'illusione su come poteva essere. A questo punto ragazzi io vi ricordo che fino a mercoledì siamo in promozione del 50% per quelli di voi che stanno fremendo e meditando se iscriversi in accademia e vi dico anche che potete nel momento in cui vi iscrivete a qualunque livello anche al più al basic con il 50% di sconto se un giorno vorreste cambiare passare a un livello superiore avrete comunque sempre in qualunque momento il vostro sconto a disposizione quindi non dovrete aspettare un'altra scontistica ma l'accademia sarà sempre per poi al 50% finché rimarrete soci e per il resto vi invito a guardare le letture del vostro segno ascendente del vostro segno di luna come sempre spero di esservi stata utile noi ci vediamo alla prossima e ciao